Musica Ben trovati da Giulia Anello Punto dopo punto, passo dopo passo, il Palermo in testa alla classifica con Frosinone ed Empoli, ancora unica squadra imbattuta di questo campionato di Serie B, continua la sua lenta scalata verso la promozione in Serie A. Soddisfatto del pareggio ottenuto domenica contro il Parma allo stadio Renzo Barbera, anche il patron Maurizio Zamparini, che in una lunga intervista ha elogiato proprio la squadra di Mister Tedino, squadra che nella giornata di ieri è tornata sul campo di gioco del tenente onorato di Bocca di Falco per iniziare la preparazione in vista della gara contro il Frosinone. Big match in programma sabato 14 ottobre alle ore 15. Lavoro rigenerante per i giocatori scesi in campo contro il Parma, esercitazioni tecniche e lavori di potenza aerobica per il resto del gruppo. Lavoro differenziato programmato per Raikovic, fisioterapia invece per Alessami, Baloghe e Bellusci. Nel frattempo Lagumina festeggia anche su Instagram con i suoi sostenitori il suo primo gol in maia rosa nero e chiama raccolta a tutti i tifosi affinché diano loro quel calore e quel sostegno che rende tutto più bello. Per tutte le altre notizie stadionews.it